Buongiorno da Rai News 24 alle ore 9, subito in diretta con le immagini a Capaci dove sta arrivando il ministro Lamorgese sul luogo dell'attentato che costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo, agli uomini della scorta. Il ministro Lamorgese deporrà una corona per ricordare le vittime. Sentiamo in diretta allora Valeria Ferrante, Massimiliano Cantatore. La ministra dell'interno Lamorgese accompagnata dal capo della polizia Giannini qui hanno deposto una corona di fiori in ricordo delle vittime, è stato suonato il silenzio picchetto d'onore. Adesso la ministra si sta avviando al fuori tarico dove proseguiranno le attività, la manifestazione in ricordo. Ci troviamo a Capaci, l'autostrada A29, il tratto che dall'aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo che il 23 maggio del 1992, 30 anni fa, saltò per aria. 500 kg di tritolo a far esplodere il tritolo. Giovanni Brusca, il boss che azionò il telecomando in una casina qua vicino nella quale ogni anno viene scritta una frase, no alla mafia. Ricordo di quell'evento, ricordo di quell'esplosione che determinò oltre all'uscizione dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, anche i uomini della scorta. Giovanni Falcone quel 23 maggio era alla guida della croma blindata che lo stava portando appunto a Palermo ed era arrivato qui perché da circa un anno era stato posto alla direzione degli affari penali dal ministro dell'epoca, appunto, dal ministro dell'epoca della giustizia. Sappiamo che ruolo ebbe Giovanni Falcone insieme a Paolo Borsellino che qualche mese dopo verrà ucciso il 19 luglio del 1992 in via D'Amelio a Palermo. Un ruolo determinante perché insieme ai componenti del pool antimafia avrebbero scardinato il cuore di Cosa Nostra a determinare la morte, a decretare la morte dei giudici, i boss Rina e Provenzano. E qui a Capace le 18, nel momento in cui ci è stata, insomma, è avvenuta l'esplosione, ci sarà un momento di silenzio. Ci saranno anche altre attività con bambini, scuole, associazioni. E qui appunto dall'A29 di Capaci per il momento è tutto.